L'ultimo bollettino emanato dall'ASP sulla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento fa registrare un'impennata di casi da brividi e una escalation di contagi senza precedenti. I numeri spinti dalla variante Omicron fanno segnare giorno per giorno nuovi picchi per contagi e vittime, ma il peggio dovrà ancora venire, visto che gli esperti prevedono un'ulteriore crescita del Covid in queste settimane. Questo è il dato del report diramato dall'ASP di Agrigento. Sono stati somministrati 1.364 tamponi con 1.388 totali positivi. Il dato si riferisce ai tamponi processati il giorno precedente. Canicattì è la città della provincia di Agrigento con più contagiati, ben 860. Segue Agrigento con 764. Allarmanti anche i numeri dei contagiati provenienti da Favara con 611. Non meno preoccupanti le situazioni di Ribera con 583. Palma di Montechiaro 475. Avanza il contagio anche in realtà come Sciacca 343, Licata 288, Porte Empedocle tocca la soglia dei 200, esattamente 199. Castro Filippo dà tempo alle prese con un contagio preoccupante. Ad oggi ancora 182 positivi. Avanza la variante Omicron anche a Campobello di Licata 185, Racalmuto 138, Raffadali 137, Naro 122, Grotte 117 e Aragona 101 e poi tutti gli altri. Solo meno di 29.000 tamponi e oltre 9.000 positivi. La quarta ondata sta travolgendo la Sicilia e gli ospedali ormai sovraccaricati con i primari che rivolgono appelli. I numeri del bollettino del 7 dicembre del Ministero della Salute sono insomma molto negativi anche dal punto di vista dei ricoveri. Le nuove diagnosi di Covid sono state 9.248 con 28.804 tamponi processati. Il tasso di positività passa al 32,1%. Le misure restrittive anti-Covid saranno in vigore nei seguenti territori. Nella provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. Nella provincia di Caltanissette, il comune di Caltanissette e Gela. Nella provincia di Enna, Dagira, Idona, Soro, Barrafranca, Calascibetta, Catena Nuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano, Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietra Persia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Caropepe, Villarosa. Nella provincia di Messina, Capizzi. Nella provincia di Siracusa, D'Augusta, Avola, Canicattini, Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzola, Crede, Portopallo, Di Capopassero, Preolo, Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino. La zona arancione è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro comuni. Caronie, Santa Lucia del Mela nel Messinese, Ribera nel Lagrigentino, Gravina nel Catanese. L'ordinanza è inoltre disposto che esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica a previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'ASP territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche con conseguente adozione della didattica a distanza secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a 10 giorni.